Il cedimento si è verificato nel corso della notte a causa di una perdita d'acqua dal piano superiore in un'area che era già nota e transennata. Operai dunque al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza. Intanto Aule Sicure si afferma dal plesso scolastico. Sentiamo Salvo Cutuli. Crolla una porzione del tetto del corridoio al piano terra della scuola Fanciulli di Aceliali. Il cedimento è avvenuto nella notte in una parte di solai in cui da tempo erano ben visibili infiltrazioni di acqua a causa di perdite dalle tubature in corrispondenza dei servizi igienici del piano superiore. L'area interessata dal cedimento è stata transennata e repulita dai monotentori comunali che hanno rimosso le macerie e picconato le parti pericolanti del manufatto indebolito delle continue perdite di acqua. Il plesso è sicuro e non rappresenta alcun pericolo per gli alunni, hanno sottolineato dalla dirigenza scolastica, dopo che stamani sui social si era diffusa la falsa notizia di un crollo avvenuto all'interno di una delle aule. Le elezioni oggi si sono svolte regolarmente. Il comune era a conoscenza del pericolo ed aveva dato in carico all'ufficio tecnico di provvedere alla sistemazione della parte ammalorata. Fortunatamente il distacco dei pesanti calcinacce e delle pignatte del solaio si è verificato in nottata, interessando una zona che era stata precedentemente delimitata dal personale scolastico per timore di possibili distacchi. Il crollo ha distrutto la parte del sottotetto interessata, realizzata con spessi pannelli in cartongesso che verranno sostituiti da una moderna struttura più leggera e dotata di pozzetti di ispezione. Ninfa De Luca è la reggente del plesso Fanciulli che rientra nelle competenze amministrative dell'istituto comprensivo Vigo Fuccio Laspina. Le aule sono tutte in sicurezza, tutto è tranquillo. È caduto solamente un controsoffitto. La zona era stata oltretutto ben transennata e non ci sono stati problemi di sorta. magari è stata questa notte il tutto e comunque vorrei rassicurare la cittadinanza, i genitori del plesso Fanciulli perché, ripeto, tutto è in sicurezza e non ci sono problemi per nessuno, per i bambini, per i docenti, per il personale ATA. Dal comune sono arrivate indicazioni che verrà riparato immediatamente? Eh sì, hanno messo in sicurezza adesso i locali e quindi provvederanno, credo, al più presto a ripristinare il tutto. Sul posto, per un sopralloco, anche il nuovo assessore ha le manutenzioni, Salvo Grasso, che ha disposto l'immediato ripristino della parte crollata, i cui lavori dovrebbero concludersi nell'arco di qualche giorno. Sapevamo già di qualche problema all'interno della scuola, c'era stato segnalato e già ieri era stato fatto un sopralloco e l'area era stata transennata. Siamo già intervenuti e contiamo di completare l'intervento nel più veloce tempo possibile, in maniera tale è un corridoio, non è un'aula, le aule sono tutte sicure, ci tengo questo a specificarlo, è una zona di passaggio e anche quello comunque deve essere messo in sicurezza e completati gli interventi. Gli interventi verranno completati in questione di giorni? Sì, nel giro di un paio di giorni sicuramente si provvederà quantomeno a completare gli interventi per essere tutto in sicurezza. E vi dicevo che lì si fanno interventi in cartongesso per alleggerire la parte, per renderla meno pericolosa? Sì, il cartongesso esistente era un cartongesso pesante che risaliva all'epoca di realizzazione della scuola, adesso invece si farà un intervento di alleggerimento con un cartongesso più leggero che consentirà di ispezionarlo più frequentemente. Ricordiamo che la scuola è sicura? Assolutamente sì. E adesso voltiamo pagina, Catania si è aperta, la 39esima assemblea di Confindustria, innovare, investire e crescere. La ricetta per il futuro è quanto è stato ribadito alla presenza del numero 1 nazionale Vincenzo Boccia. Per noi c'era Mario Grasso. Catania deve guardare al futuro scegliendo la direzione dell'innovazione e dell'investimento e della crescita. E' quanto emerge dalla 39esima assemblea di Confindustria. Catania celebrata in presenza delle massime autorità cittadine, oltre che di Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria. Alla relazione di Antonello Biriaco, presidente degli industriali etnei, individua le azioni necessarie per riavviare il motore dello sviluppo attraverso una riforma fiscale che riduca il cuneo, che in Italia è ben 10 volte superiore rispetto alla media europea, attraverso la politica energetica che riequilibri i costi sostenuti dalle imprese, con quelli degli altri paesi dell'Unione, agli interventi sull'occupazione e sulle infrastrutture, dichiarazioni che forniscono l'assist al presidente nazionale degli industriali. Vedete Catania da fuori, Catania, ancora la Milano del Sud? Catania è una città che rappresenta l'industria del mezzogiorno, ha potenzialità incredibili, è una dimensione dell'industria del Sud, è come il nostro mezzogiorno, ha due grandi pilastri, la questione turistica e la questione industriale, e da questo dobbiamo ripartire come paese. Certo, l'economia arranca. In un paese a doppia velocità e al Sud la differenza si nota, e come? Una manovra economica che deve guardare all'occupazione e al lavoro, all'incremento dell'occupazione, che è la grande sfida del paese. Quindi occorre fare molta attenzione e valutare gli effetti sull'economia reale di ogni provvedimento con risorse non elevate, dato il debito pubblico che abbiamo. Fiscalizzazione delle imprese dal Sud? Più che di fiscalizzazione occorre un credito d'imposta per investimenti e una politica industriale in tutto il paese. Dobbiamo evitare di contrapporre una questione settentrale e una questione meridionale. Il paese ha bisogno di una questione italiana e riprendere la dimensione dell'incremento dell'occupazione del paese, in cui chiaramente in tutto il paese, nord, centro e sud, occorre una convergenza per evitare elementi di distonia, ma occorre una grande coesione. Il sindaco di Catania Pogliese e il presidente della regione musumeci tracciano la liria burocratica amministrativa dei rapporti tra la regione, il comune e gli industriali. A proposito, il presidente musumeci lancia un tavolo per il Sud. La regione, più che un piano straordinario per il mezzogiorno, occorre un'attenzione a tutto il paese ripartendo dallo sviluppo, utilizzando le risorse che abbiamo e facendo della questione temporale una grande questione di sensibilità al paese. In quanto tempo facciamo le cose che diciamo è la sfida di tutti noi. Il dibattito è stato moderato da Marcello Sorge, editora del quotidiano La Stamp dopo i saluti di Salvatore Torisi, amministratore unico di AAT per Compindustria Catania. La vera sfida è nelle infrastrutture, questa la visione strategica per il territorio sulle nuove rotte commerciali, sui fondi strutturali e il suo ruolo di vigilanza dell'Europa, nonché la Sicilia vista come seduta su un tesoretto, perché sono più di 160 le opere incompiute in Sicilia, per un totale di quasi 500 milioni di euro, di cui gli industriali reclamano subito la conclusione. Poi l'efficienza amministrativa, le zone economiche speciali, l'innovazione delle ZES significa anche attrazione di nuovi investimenti, quindi il ruolo del credito come sostegno di sviluppo, passando per l'innovazione in senso stretto, cioè come trasformazione digitale, e sul capitale umano e l'offerta formativa. Senza dimenticare la zona industriale e il patto per Catania, che per gli industriali catanesi rappresentano davvero due direttrici di marcia assolutamente prioritarie. Ed entriamo dunque più nello specifico sulla realtà e le necessità che avvertono gli industriali etnei, riforme fiscali, infrastrutture, lo abbiamo sentito, politiche energetiche chiare ed immediate. Allora sentiamo direttamente il presidente provinciale dell'associazione etnea Antonello Biriaco. Presidente, innovare, investire e crescere è la formula magica per Catania? Partiamo proprio da quello che è il tema innovare, crescere e investire. Purtroppo, ahimè, il nostro grosso gap infrastrutturale molte volte non ci fa essere, ci tiene sempre lontano da quella che è la crescita e si allarga sempre di più la forbice con le altre zone, sia del sud che del nord. Oggi proviamo a tracciare quello che può essere realmente il percorso per cercare di diminuire sempre di più il taglio della forbice e capire effettivamente quelle che possono essere le nuove prospettive di rilancio. Lei dice sempre Catania, ma bisogna guardare a Palermo, bisogna guardare a Roma, bisogna guardare a Bruxelles. Quanto è distante ancora Catania da Bruxelles dal resto dell'Europa? Enormemente, basta guardare le nostre infrastrutture, le nostre autostrade e ci rendiamo conto che noi siamo lontani da Palermo, siamo lontani da tutto quello che purtroppo è il nostro territorio. La cosa per noi molto importante è pensare che effettivamente grazie ad esempio alle ZES, le zone economiche speciali dove le infrastrutture, gli investimenti possono essere incentivati e soprattutto essere capaci di attrarre investimenti, questa secondo noi è la vera chiave di volta per realmente cominciare a capire che il Sud ce la deve fare e in fretta. Perché ancora oggi gli imprenditori devono scontrarsi con il muro della burocrazia della parte pubblica? Ma guardi, è semplice, basta oggi noi facciamo questa assemblea qui in zona industriale. Voi sapete benissimo che io mi sono sempre battuto per la zona industriale per cercare di creare una normalità che molte volte da noi è negata. Questo è purtroppo il grosso nostro limite, farci del male non capendo effettivamente quelle che sono le nostre grandi potenzialità. Lei però al Presidente Boccia presenterà una Catania comunque viva, ad esempio questa azienda, no? Assolutamente, ma Catania sappiamo benissimo che è il polmone di tutta la Sicilia a livello imprenditoriale. Il Presidente Boccia ne è consapevole di questo e sa benissimo delle realtà imprenditoriali che ci sono. E proprio questo alcune volte è proprio la rabbia di non poter dare a quelle aziende quella normalità che in altri posti trovano e che noi purtroppo ci dobbiamo conquistare d'oltre decenni e decenni di lotte. Ed ora veniamo all'immigrazione. Stamane sulla banchina Norimberga del porto di Messina le operazioni di sbarco di 182 migranti a bordo della Ocean Viking, la nave di SOS Mediterranea e Medici Senza Frontiere, i profughi tra cui numerose donne e 14 bambini, uno dei quali di solo 8 giorni erano stati soccorsi la settimana scorsa a largo delle coste libiche. La decisione di indicare Messina come porto sicuro è stata presa dal Viminale dopo che la Commissione europea ha raggiunto un accordo sulla redistribuzione dei migranti in 5 paesi dell'Unione europea. Ad attendere i migranti, forze dell'ordine, uomini della Croce Rossa, dell'ASP, di organizzazioni di volontariato e del Comune. Successivamente i profughi saranno accompagnati nell'hot spot di Bisconte. I ministri di Malta, Italia, Francia, Germania e Finlandia, paese che ha la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione, hanno affermato che questo accordo sarà presentato al resto degli stati dell'Unione europea in una riunione dei ministri dell'interno che si terrà a Lussemburgo l'8 ottobre. Salvini commenta, con terri aperto i porti, sbarchi in aumento. Il premier da New York parla invece di svolta significativa. È passato il principio di chi sbarca in Italia, sbarca in Europa. E adesso il terremoto di Santo Stefano ancora. Scade il 31 ottobre la sospensione per il pagamento dei tributi. I nove comuni colpiti dal sisma chiedono una proroga, così come è concessa alle popolazioni dell'Italia del centro. Gli otto comuni colpiti dal sisma del 26 dicembre scorso chiedono la proroga di sospensione dei tributi, la cui scadenza è stata fissata per il prossimo 31 ottobre. Lo stato di emergenza adottato dal Governo nazionale per i territori coinvolti dalla durata di 12 mesi e i ritardi accumulati per i risarcimento e la ricostruzione promessi impongono una riflessione sull'imminente scadenza che coglie impreparate private e aziende residenti o con sede legale e operativa nei paesi etnei devastati dal sisma, i quali dovranno versare in un'unica soluzione gli arretrati dei tributi, malgrado l'emergenza non sia ancora del tutto conclusa, con migliaia di pratiche risarcitorie in giacenza e i fondi stanziati congelati. I sindaci di Aceriare, Zaffarinatelnea, Santa Venerina, Via Grande, Tre Castagne, Acer Sant'Antonio, Aciborra Corsi, Milo e Aci Catena, con una lettera inviata al Ministero dell'Economia e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza alla Regione Siciliana e al Commissario Delegato presso il Dipartimento della Protezione Civile, invocano un'ulteriore sospensione e reteizzazione dei tributi sulla scorta dei provvedimenti adottati nei comuni terremotati del centro Italia e dei recenti adeguamenti in materia ammessi nella legge di stabilità del 2019. La richiesta è stata inoltrata nei giorni scorsi e controfirmata dai segretari generali degli otto comuni coinvolti. Il sindaco di Aceriare, Stefano Liri, ribadisce la necessità di adottare un rinvio delle tasse per consentire ai cittadini in sofferenza e con essi alle aziende o soggetti che operano con partita IVA di riprendersi dagli eventi calamitosi della rotta di Santo Stefano. C'è stata una riunione a cui hanno partecipato tutti i dirigenti degli uffici di ragioneria dei comuni colpiti dal sisma è stata prerisposta una nota al Ministero, al MEF per chiedere un'ulteriore proroga dal 31 ottobre che permetta la sospensione dei tributi e permetta anche una rateizzazione per evitare di dover pagare tutti gli importi complessivamente cosa che già è avvenuta per altri sisma in altri comuni e chiederemo anche che possiamo ottenere le stesse agevolazioni in termini di gestione dei bilanci comunali che hanno avuto i comuni colpiti dal sisma nel centro Italia. Questo aiuta nella rendicontazione annuale dei comuni che si sono dovuti soborcare delle spese extra? Certo, ci sono per esempio un aspetto importante che questa sospensione dei tributi è legata anche a una riduzione delle entrate quindi un problema anche di cassa che hanno i comuni altro problema che abbiamo è l'IMU perché è chiaro che il danno che viene fatto agli immobili dei privati comporta un minore entrate per il comune perché non si può chiedere l'IMU a chi ha avuto la casa danneggiata quindi sono minori entrate che per comune di Acerale hanno un certo peso ma per comune come per esempio Zafferana in cui ci sono state colpite un grosso numero di abitazioni ha una ricaduta significativa sul bilancio e quindi è importante che lo Stato intervenga. Ancora per la cronaca è stato sequestrato un allevamento abusivo di suini e sottratto alla macellazione clandestina un poni i carabinieri della stazione di Trecastani con l'ausilio della compagnia di Acireale del personale del Dipartimento di Veterinaria dell'ASPE hanno denunciato una 29enne e due uomini di 32 e 56 anni tutti di Aci Sant'Antonio ritenuti responsabili di furto aggravato ricettazione in concorso violazioni in materia di allevamento i militari a seguito della denuncia relativa al furto di un cavallo di razza poni avvenuto a Trecastani hanno avviato immediatamente le indagini in un terreno in via Santa Croce appunto ad Aci Sant'Antonio oltre a ritrovare l'animale rubato i carabinieri hanno scoperto la presenza di 5 box con all'interno una cinquantina di suini e 10 cani privi di microchip gli animali compreso il poni sono stati sottratti al loro destino della macellazione l'allevamento abusivo è stato posto sotto sequestro e adesso ancora Acireale per il piano scuole sicure modifiche alla viabilità in particolare in atto nei pressi dell'Istituto Ferretti Ferretti, interventi in fase di sperimentazione riguarderanno anche la Cristoforo Colombo nei prossimi giorni sentiamo i particolari A Acireale e la stasora la Polizia Municipale Mario Di Prima e il comandante del Corpo Antonio Molino hanno predisposto in questa prima fase in via sperimentale un piano sicurezza scuole che interessa il quartiere di Piazza Dante nel tratto stradale tra vie Jacopone da Todi e Piazza San Francesco in cui è stato disposto il senso di unico all'altezza della rotatoria sino all'orslargo in cui è presente l'Istituto Ferretti per consentire un miglior deflusso delle auto negli orari di ingresso e uscita dagli alunni dal lunedì a giovedì dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 13 alle ore 14 il venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e ancora dalle 12.30 alle ore 13.30 il tratto stradale interessato dall'ordinanza avrà presidiato da agenti della Polizia Locale e dotato di apposita segnaletica il provvedimento sarebbe dovuto scattare nella giornata odierna ma è stato posticipato per consentire agli operai comunali di apporre i necessari accorgimenti tecnici presto era rimodulato anche il transito su via Lazzaretto nell'intersezione con viale Cristoforo Colombo regolata da impianto semaforico che da quattro tempi di attesa passerà a terra con la chiusura al passaggio dei mezzi per chi proviene dal piano d'api con l'oscuramento del semaforo ed elezione obbligatoria nelle terviarie alternative anche in questo caso si tratta di un provvedimento adottato in via sperimentale con tanto di studio matematico sui tempi di attesa che dovrebbero ridursi considerevolmente rispetto all'attuale disposizione semaforica in cui ogni singolo via libera nei quattro sensi di marcia impegna gli automobilisti in attesa che passa da 48 secondi attuali di media a 38 secondi ma su tre direttrici invece delle attuali quattro nell'ambito del piano sicurezza scuole abbiamo appunto pronto un intervento che è innovativo per Acireale ed è un senso unico nella via Jacopone da Todi per la scuola Ferretti a fasce orarie cioè nell'orario di entrata e nell'orario di uscita dalla scuola questo senso unico che sarà da nord a sud quindi dalla piazza San Francesco verso la rotatoria consentirà almeno tre benefici una maggiore sicurezza perché non ci saranno incroci di auto maggiori spazi di manovra e una maggiore fluidità del traffico ecco speriamo che questo intervento che appunto è nuovo aumenti i benefici per le famiglie che la mattina accompagnano e vanno a prendere i bambini a scuola per il comandante Molino si tratta di una vera e propria rivoluzione che riduce i tempi di percorribilità e favorisce un migliore scorrimento della circolazione in uno dei tratti stradali più trafficati della città la scuola velocissimamente un senso unico nel momento in cui abbiamo l'afflusso e il deflusso dalle scuole da lunedì a venerdì da lunedì a giovedì dalle 7.30 alle 8.30 dalle 13.30 alle 14.30 mentre il venerdì in concomitenza con l'orario scolastico dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 13.30 la via Iacomone da Todi dove insiste il plesso Ferretti sarà percorribile da Piazza San Francesco a via Guido Gozzano mentre per quanto riguarda via Cristoforo Colombo per la via Cristoforo Colombo il discorso è un pochettino più complesso allora vogliamo agevolare i flussi di viabilità di questo benedetto incrocio su cui chiaramente vi è un volume di traffico elevatissimo un volume di traffico elevatissimo per varie circostanze siamo vicino all'autostrada e punte di accesso alla città abbiamo i pressi scolastici importanti sull'area abbiamo pensato di ridurre i tempi da 4 a 3 ma non come lo era originariamente perché era fonte di pericolo perché si intersecavano i veicoli dalle due parti di via Lazzaretto abbiamo pensato di occludere completamente l'accesso alla Cristoforo Colombo dai paesi di piedi montani cioè dalle frazioni montane quindi piano d'api i veicoli probabilmente da piano d'api avranno l'obbligo di percorrere immediatamente a destra verso destra la via Cristoforo Colombo raggiungeranno la rotatoria e quindi ritornaranno indietro verso la statale o verso il centro città questo provvedimento che chiaramente è sperimentale sarà seguito monitorato eccetera e se dovesse avere i suoi benefici come riteniamo poi diventerà definitivo torniamo ad ACI Sant'Antonio per la polemica che riguarda il campo sportivo in particolare l'accesso ai tifosi per il campionato della squadra locale adesso replica il consigliere Finocchiaro proprio il primo cittadino ci siamo attivati nei tempi previsti dalla normativa il campo sportivo di ACI Sant'Antonio al centro di un botta e risposta tra maggioranza ed opposizione oggetto della polemica la prima di campionato disputata domenica scorsa a porte chiuse per il mancato rilascio del nulla osta entro la data d'esordio in campo della squadra di calcio locale il sindaco avrebbe potuto pensarci prima aveva dichiarato RTV il consigliere pentastellato Giuseppe Finocchiaro pronta la replica del comune ai nostri microfoni il primo cittadino Santo Caruso tiene a precisare in cosa consiste la procedura per autorizzare in sicurezza l'apertura al pubblico del campo all'inizio di ogni anno la società deve comunicare al comune l'inizio dell'attività quindi l'inizio del campionato con l'inizio del campionato come in tutte le strutture pubbliche si fa una richiesta di autorizzazione che è soggetta al non a comitato per la sicurezza quel comitato lo convoca il prefetto ma viene convocata una commissione comunale per gli spettacoli come in tutti gli spettacoli che vengono fatti la società ha comunicato il 19 giovedì 19 ha fatto richiesta dell'utilizzo del campo capite benissimo che da giovedì a domenica non c'era possibilità né di convocare la commissione né di dare un'autorizzazione aperta e quindi ci siamo organizzati ho dato un'utilizzazione provvisoria e abbiamo permesso la partita se l'agibilità ottenuta nel 2015 dal stesso sindaco ha consentito all'amministrazione di autorizzare allenamenti d'incontro a porte chiuse adesso occorre il via libera per l'accesso dei tifosi il campo sportivo di San Antonio è uno dei pochi campi sportivi che ha l'agibilità per l'utilizzo del campo è un'agibilità fatta nel 2015 e noi abbiamo dato disponibilità da parte nostra alla società che utilizza il campo per allenamenti e quello che può significare la preparazione a riunirsi per deliberare il rinnovo annuale prescrive la legge è una commissione fatta di personale sanitario dell'ASP vigili del fuoco e membri dell'ufficio tecnico altro non poteva essere fatto e soprattutto non prima della richiesta avanzata della società sportiva precisa Caruso Sindaco come mai non ha pensato preventivamente al di là della comunicazione della società di preparare diciamo tutta questa procedura visto che porta via un po' di giorni ripeto la società chiede perché è una società privata chiede l'utilizzo e quindi automaticamente scattano le procedure non è il comune il comune ha già l'autorizzazione il campo è agibile e ha la possibilità di ospitare fino a mille spettatori la macchina per l'agibilità completa l'accesso al pubblico è adesso in moto tempi ci sono ma settimana prossima convocheremo già abbiamo convocato settimana prossima ci sarà questa commissione che valuterà le semplici condizioni che diciamo che persistono già in base all'autorizzazione già data e daremo la possibilità ai nostri concittadini di andare a vedere le partite quanto all'attenzione dell'amministrazione comunale verso il settore dello sport più in generale noi siamo stati sempre attenti e ultimamente abbiamo avuto anche il finanziamento che stiamo portando avanti e faremo una palestra a Santa Maria della Stella no alle strumentalizzazioni dice il primo cittadino rivolgendo un invito al consigliere Finocchiaro si goda la vita perché altrimenti lo vedo troppo preso da tantissime cose preso da questa e questa voglia di caccia alle streghe continuo e costante la campagna elettorale è finita quindi fra quattro anni ci sarà un'altra campagna elettorale adesso parliamo di sanità ospedale di Giarre nuovo passo avanti verso l'apertura del pronto soccorso l'ASP di Catania ha recepito il decreto assessoriale dello scorso gennaio e ieri i sindaci del distretto sanitario si sono ritrovati a Catania a Palazzo degli Elefanti Melo Nicotemo ci sono o dovrebbero esserci buone notizie per gli abitanti dell'Interlandione Chetneo dopo la conferenza dei sindaci tenutesi ieri a Catania nel Palazzo di Città le notizie chiariscono che l'ASP di Catania ha recepito il decreto dell'assessore regionale Razza emanato nel gennaio di quest'anno in concreto l'ospedale di Giarre depauperato e spoliato da alcuni anni a questa parte dovrebbe tornare ad operare grazie alla ristrutturazione dei locali all'acquisto di nuove strumentazioni necessarie per poter riprendere alcune attività particolarmente nel pronto soccorso in particolare diventa necessario reperire personale medico ed infermeristico senza i quali la struttura sarebbe vuoto contenitore dovrebbero poi essere attivati quasi 70 posti letto così suddivisi 6 in chirurgia generale 12 in medicina generale 8 in ortopedia e traumatologia 15 in psichiatria e 16 in riabilitazione e lunga decenza a ben vedere se dalla fase di studio e di promesse si passasse alla operatività vedremmo riprendere vita una struttura quella dell'ospedale nuovo per la realizzazione del quale sono trascorsi più di 30 anni e per destrutturarlo invece solo qualche anno la rifunzionalità del nosocomio giarese dovrebbe dare respiro a quello di Acireale che dal momento della chiusura dei reparti a Giarre compreso il pronto soccorso si è trovato ad avere richieste non sufficientemente soddisfatte dato che nella struttura accese pervengono tutti quei casi che prima convergevano su Giarre e nello stesso tempo le attese al pronto soccorso sono di quelle veramente chilometriche e meno male che molti pazienti hanno avuto la possibilità di adire all'ospedale di Taormina che in parte ha alleggerito la pressione su Acireale questa riforma prevede anche l'indipendenza di Giarre da Acireale dato che è prevista l'autonomia amministrativa e i due ospedali non sarebbero più ospedali riuniti votiamo ancora pagina Expo del Pistacchio 2019 da venerdì torna protagonista l'oro verde di Bronte si replica il successivo weekend sentiamo il servizio di Filippo Romeo festeggia 30 anni l'Expo del Pistacchio di Bronte da venerdì prossimo le strade del paese etneo torneranno a popolarsi di gente per celebrare come si conviene il prezioso frutto che ha reso famoso Bronte nel mondo da qui infatti arriva l'1% della produzione mondiale 3.000 gli ettari di terreno coltivati a pistacchio per due fine settimana si replica il 4, 5, 6 ottobre in programma negli stand allestiti nel centro cittadino degustazione e vendita di prodotti rigorosamente a base di oro verde ma come gli altri anni spazio è stato riservato anche agli eventi culturali organizzate mostre nella Pinacoteca Ciavarrello e convegni e poi spettacoli tutte le sere invitati gruppi siciliani eccezione fatta per Morgan che sabato si esibirà con la sua band in Piazza Castiglione l'evento è stato presentato questa mattina in un'azienda agrituristica della zona dal sindaco Graziano Calanna e dall'assessore alle attività produttive Giuseppe Di Mulo presente tra gli altri il deputato regionale Antony Barbagallo il fatto che si arrivi a 30 edizioni che ci sia in ogni caso insomma questa grande partecipazione che ci sia questa eco che poi come dire ha avvarcato i confini della regione della nazione è diventato un evento come dire di caratura internazionale certamente fa capire insomma che qualcosa di sostanza c'è non è la solita festa dove la gente balla e si diverte ma è la promozione di un prodotto che oramai è di nicchia ed è diventato insomma oramai ricercato in tutti i mercati mondiali la cosa ovviamente non può che inorgoglierci L'attenzione di quest'anno della trentesima sagra sicuramente è quella che ha al clou abbiamo un programma ricco di eventi a partire da Morgan poi hai concerto hai sciacalabra avremo un comico del momento Antonio Pandolfo avremo altri altri eventi durante l'arco delle due fine settimana e avremo inoltre oltre a questo qua nuove nuovi stand rispetto a quello che c'era lo scorso anno siamo vicino all'amministrazione comunale che sta facendo bene per noi e anche l'anno un po' del consuntivo perché è l'ultimo anno e quindi il momento della sagra è anche l'occasione per fare i conti con i buoni risultati che abbiamo avuto in questi anni edizione tonda perché sono 30 quest'anno e basta leggere il programma per capire il livello che ha assunto ormai la manifestazione eventi degustazioni è una vera e propria expo del pistacchio qualità sono le caratteristiche che negli anni hanno reso famoso questo evento e sono convinto che con l'impegno solito di tutta l'amministrazione comunale come dire abbiamo garantito a una sagra che ha una grandissima tradizione un prospero futuro e tutto non ci sono aggiornamenti ci fermiamo qui per questa edizione di Ora Tg la prossima come sempre in diretta alle 19.45 grazie dell'attenzione adesso le previsioni del tempo arrivederci la giornata di domani si presenta all'insegna del cielo libero da nubi su tutta la Sicilia con un sole che ci fa ritornare indietro al periodo estivo i mari sono calmi le temperature 19 la minima 31 la massima a Catania a Catania